Ciao a tutti gli amici del GS Free Time, purtroppo anche questa domenica non potremmo uscire in gruppo. Le domeniche scorse abbiamo fatto una bellissima attività che si chiamava non restare in scia, vi faccio i complimenti, vi sono stati tutti bravissimi. E questa domenica invece abbiamo in mente una cosa nuova, è un nuovo contest, si chiama Good Bike Biker e in sostanza dovrete prendere le stesse mete che avete fatto recentemente, quindi l'elenco che vi abbiamo mandato, ma se avete anche mete nuove belle da poter postare ben volentieri, e vi chiediamo di fare un breve video, in sostanza dire il vostro nome, dove siete e salutare, quindi molto semplicemente nome, dove siete e salutare tutti quanti. Questo ci permetterà di fare poi un video completo con tutti i vostri speech bellissimi e lo posteremo, quindi faremo una cosa molto bella, abbiamo bisogno di voi, so che risponderete sempre come tutte le volte in maniera massiva è incredibile, con tanto entusiasmo, l'uscita varrà come punteggio e quindi sarà valida appunto come classifica finale. Con questo ragazzi pedalate e Good Bike Biker, ciao! Ciao ciao!